Siamo pronti, stiamo per scendere praticamente nella zona più osa Andiamo C'è il fatto di venire C'è un problema all'audio, siamo pronti per uscire Già, come si vede, ci sono le pozze d'acqua che sono veramente una roba impressionante Però, ai miei, ai miei Allora Ok, ok Freddo fa freddo Allora, stiamo adesso proseguendo per lì qua Adesso i ragazzi mi potranno anche vedere in diretta su Google+, su YouTube Saluto E vado Comunque, le angolazioni Scusate Un problema alla videocamera Oggi non è proprio giornata Comunque, là c'è la troupe Vediamo Che si vede così Boh, non lo so Andiamo Allora La pioggia È veramente Ma veramente intensa Infatti, due secondi che sono giù La telecamera si è bagnata completamente Già E a parte quello Si può notare Come Cioè, guardate qua Si stanno formando già degli allagamenti Di acqua piovana Che proprio Sta riempiendo già le zone Cioè, come potete vedere Sta veramente riempiendo già le zone Sta piovendo letteralmente forte Una roba veramente incredibile E a parte quello È veramente incredibile Perché Siamo A settembre Cioè, scusate A ottobre E sembra praticamente già C'è inverno praticamente Inverno vero e proprio E Cioè, quest'anno Non c'è neanche stata l'estate sinceramente Perché Come sta succedendo Comunque, come vediamo qua Altri allagamenti In corso Anche se siamo Sotto agli alberi Cioè, quindi Veramente È incredibile Come si sta allagando la zona E Cioè, è veramente incredibile Che Si stanno formando queste cose Queste pozze E A parte quello Andiamo Proseguiamo avanti Adesso ne sta venendo giù Veramente tanta Come vedete Anche qua Altri allagamenti La terra incomincia Cioè, sentite che roba Guardate che vento che c'è Cioè, guardate che vento che c'è Non riesco neanche a mettere a fuoco Sinceramente Veramente Incredibile Incredibile Veramente Aspettate So che probabilmente Non sentirete quasi niente Ma Io tento lo stesso Di parlare Perché Fa veramente molto Molto Freddo Molto Casino E quindi ci saranno anche Le parti audio dove non si sente Dunque Altre pozze Altre pozze E veramente Guardate che Che roba Si stanno formando Casino i pozzi C'è tanto che mi va in bianco assoluto Sto telecamera Ok Ora va meglio Come vedete Altre pozze Pozze su pozze Altre pozze Tutte pozze ci sono Cioè, è veramente Incredibile Cioè, guardate Quante pozze Si stanno creando Pozza 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 Altre pozze Ok, guardate Guardate qua Che figata Altre pozze Cioè, veramente Incredibile Aspettate che Vi sette bene la telecamera Ok, come vedete Si formano pozze 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 Cioè, continuano ad esserci pozze Da tutte le parti dove andiamo Ci sono pozze Incredibile Intanto continua Sembra a piovere Incredibilmente E guardate E guardate quante goccioline Ci sono Incredibile Ma incredibile Veramente Una roba Veramente Impressionante Ma possiamo Vedere Guardate 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 che Che roba Quanta pioggia Che si sta creando Cioè, è veramente Incredibile Incredibile Oh Cazzo Che falli Ecco Come avete visto Ma porca Come avete visto Si scivola anche molto E Quello Basta Veramente Incredibile Scusate Se sono Scivolato Ma non ho Scusate La zona Perseguiamo 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 Vediamo Perseguiamo 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 Tanto qua Allora Cosa Una mega Pozza Altre Pozze Cioè Si continua A creare Le solite Pozze Cioè Come vedete Vedete Che roba Incredibile E siamo Solo Ottobre Figuriamoci Gli altri Gli altri Mesi Cioè Guardate Che roba Pozze Oh Un ombrello Mi serviva Un ombrello Dov'è Aspettate L'ho visto Dov'è Ho visto Un ombrello C'è un ombrello C'è un ombrello Sul tavolo Magari dopo Lo prendiamo Che mi serve Cioè Veramente Incredibile Cioè Guardate In che furia Sta scendendo Pioggia Cioè Cioè Continua a piovere Incredibile Incredibile Guarda Che roba Pioggia Su pioggia Pioggia E due Stavo cadendo Guardate Questo è un campo Da calcio Completamente Il riflesso Si vede Dei palazzi Qua sopra Incredibile Completamente Lavato E sta anche Uscendo Acqua Ovviamente Perché come vedete Sta uscendo Dal campo Perché è veramente Tanta E si creano Queste pozze Queste pozze Che io non vedo Aspettate Che mi metto In spalla Allora Stavo dicendo Si creano Queste pozze Queste qua Che vedete Qui Tutte Queste pozze Stanno uscendo Proprio dal campo Di calcio Perché come vedete Sta isondando Praticamente Incredibile Veramente Proseguiamo Con il nostro Viaggetto Anche qua Altra Che cazzo Intanto In fondo In fondo Si può Notare Il mercato C'è oggi Che anche Se ha piovuto Così tanto Lo fanno Lo stesso Altra pioggia Incredibile C'è veramente Sta piovendo Un casino Pioggia Pioggia Quanto la pioggia Guardate che roba Veramente Incredibile Che roba Il tempo Non è che sia Di migliori Come vediamo È grigio Proprio Fino a ieri sera C'erano pure i tuoni Quindi figuracci Tutti Love it Passivano Proprio C'erano C'erano Di lasco ad e guardate che roba incredibile veramente qua c'è sempre il nostro mercato come vedete stai andando giù veramente in diluvio universale andando e 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 hanno aperto la doccia e 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 se guardate la videocamera questo è tutta la pioggia che abbiamo preso con la videocamera adesso spengo il faretto allora e e e e abbiamo preso un'acqua della madonna e e a parte quello basta credo che non gireremo più niente anche perché fa veramente veramente molto no ho completamente freddo non 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 ce la faccio più sinceramente sono saliti perché sono completamente calmi allora adesso fermiamo secondo un ragazzi andiamo subito in salto che freddo cioè ragazzi capite che la tua camera anche se si era coperta e bagnata allora ehm guardate ti diamo un secondo il usb device allora ragazzi veramente ma veramente incredibile nel senso in che senso allora aspettate che scusate un secondo se gli do il culo ma sto no niente sono allora sono appena tornato dalle riprese video che ho appena fatto e la telecamera è peggio dell'infradiciato cioè questa è la videocamera nostra in questo momento è infradiciata completamente non so se si nota magari così è infradiciata cioè il faretto è completamente bagnato io sono completamente bagnato veramente non mi aspettavo nulla di questo genere comunque e qui